Trasferta a Palermo per la Nissa, dove i biancoscudati affronteranno i padroni di casa della Parmonval. Sulla carta potrebbe risultare una partita facile per la combagine nissena, visto l'ultimo posto in classifica della squadra palermitana. Ma a renderla delicata e insidiosa sono le due sconfitte consecutive in campionato a Marineo e domenica scorsa nel derby perso l'ultimo minuto contro l'Akragas al Tomaselli, a rendere questa partita come un'ultima chance in chiave playoff. Gli uomini di Alessio Sferrazza hanno lavorato intensamente durante la settimana e vogliono uscire dal francolo monaco di Palermo con una bella vittoria, per ritrovare lo spirito giusto che nonostante i risultati delle ultime partite i biancoscudati hanno sempre ben figurato in campo. Rosa quasi al completo per la Nissa, a parte qualche acciaccato e lo squalificato di Biasi a centrocampo, mentre la Parmonval, reduce dalla sconfitta di Mazzara, cercherà di dare filo da torcere alla combagine nissena, cercando di non essere la vittima sacrificale di turno.